buongiorno le ultime forze rimaste le ultime forze rimaste con il morale sotto i tacchi anche un po' più giù anche un po' più giù che non esiste guerriglieri che mai, andiamo con quella cosa lì a Marsiglia, guardate con cosa andiamo pronti a sfidare i magretini pronti a sfidare i magretini se non mi riconoscete perchè sono dentro l'arma pure è vero non moriamo nel peggior momento degli ultimi diciamo 6-7 anni 6-7-8 anni dell'Inter rinnoviamo il nostro amore aprendo l'Inter Club clamorosamente direi anche ma basta con questa storia tra lei ho trovato un semaforo mi è caduta la spazzola dei vetri dai cretino fai sto brindisi alla sede presidente bravo a te che sei riuscito a tirare in piedi una cosa finalmente mi ha detto la vera mi ha detto la prima cosa vicente che sei riuscito a fare niente non c'è più parole che dire speriamo in Marsiglia e ci vediamo al ritorno questo è un brindisi speriamo di buttare giù il velodrom cosa bisogna dire in questo momento? Forza Inter speriamo che è meglio con la salute grazie